Come sta? Ce la può fare? Non lo so, l'oscurità è radicata in lui. Pochi si risvegliano. Sta migliorando, cioè stai facendo quello che devi e lui sta meglio, no? Da me non avrai false speranze. Forse sarebbe meglio che lo lasciassimo riposare in pace. Non temere, il vecchio ha la pelle dura, se la caverà. Che io sia maledetto. Non lascerò che mi seppegliate. Visto? Ve l'avevo detto. Già, e mi è pure toccato vedere il tuo muso come prima cosa. Mi dispiace davvero, Walter. Hai fatto tutto ciò che potevi. Non credere che non lo sappia. Sapevo che mi avresti reso orgoglioso. Beh, non abbiamo esattamente trovato l'esercito che cercavamo. E mi sento mille anni più vecchio di quando siamo partiti, ma siamo finalmente pronti. Hai superato di molto le mie aspettative. Sei il re che serve ad Albion. Bene, è tempo di radunare i tuoi generali e preparare la battaglia. Forse mi farò un sonnellino veloce. La promessa che hai fatto a Kaylin è ora sul muro con le altre. Hai a disposizione una nuova manopola. Eccellente scelta di manopole. Eccellente scelta di manopola. Ehi, ci sono. Porto un gruppo di soldati di qua e faccio saltare la caserma a Ovest. Li distrarrà e noi prenderemo la strada principale. Perché è meglio della mia idea? Perché vivremo più di qualche secondo. Vuoi proprio cercare il pelo nell'uovo? Basta così. Voglio sapere cosa devono fare i miei uomini. Questo lo deve decidere il futuro re. Paige conosce la città. Seguiremo il suo piano. Bene. La mia proposta serviva solo per farla innervosire. Sei molto maturato nei tuoi viaggi. Se guardi la mappa possiamo studiare i dettagli. Le mie navi vi porteranno alla spiaggia. Ci spareranno con i mortai. Ma il grosso dei soldati di Logan sarà impegnato con Paige e i sei uomini. Io voglio essere in prima linea. Proprio nel cuore dell'azione. Se Paige va a Ovest, allora è più che giusto che io vada a Est. Il che lascia il centro a noi. Così non rischiamo di perderci. Bene. Hai deciso. Sicuro di farcela, vero Walter? No, non preoccuparti per me. Sarò anche vecchio e stanco. Ma non è ancora arrivato il giorno in cui rifiuterò di buttarmi in un bel combattimento. Che la battaglia per Albion abbia inizio! Stanno facendo i nostri abbrandelli là fuori. Dobbiamo aiutarli! Dobbiamo occuparci di quel mortaggio. Abbiamo già perso una nave, quella di Kay, linearismo. Forza! Ha ragione. E' tempo che ti prenda il comando dalla prima linea. Noi ti seguiremo. Pronti? Andiamo! Beccati questo! Così impara. Più aspettiamo qui, più uomini finiremo col perdere. Uno dei nostri è stato colpito! Quaggiù potrebbe servirci il tuo aiuto. Le loro maschere non servono contro magie decenni. Fai attenzione! Sei bello grosso! Fa niente, ti prenderemo una parataglia XL. Attenti! Un traditore ha un'arma! Puoi eliminare quel mortaio! Ora cominciamo dappena a seccarlo! Animo, ragazzi! Questo è pericoloso! Non passeremo mai le porte col mortaio in azione! Gran bel tiro! Il maledetto ci spara addosso! Occhio! Questo lo devi distruggere, ok? Mortaio distrutto! E fai così! Le navi di Aurora dovrebbero riuscire ad avvicinarsi ora. Forza, Key. Tocca a te. Brava, ragazzi! Tostiamo la battaglia nella città! Non osi sparare agli uomini del re! Finalmente! Un po' di combattimento ravvicinato. Vi ricordate del vecchio Walter ruppe facce da Hobb? Come ti senti, Walter? Smetti di preoccuparti e starò meglio. Forza! Ehi, che batosta! Prendi questo! Avanti così! Ce ne sono ancora tanti! Grande colpo! No, 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 no! Dovrei fare molto meglio di così! Non fa più male! Una cosa eccellente! Non si rialzerà più! Altre guardie! Fettacchino, eh? Beh, noi siamo gli uomini migliori di Logan! Ah, senti presto! Da dove arrivano? Non illuderti neppure per un attimo di uscirne vivo! Giù la testa, ragazzi! Stanno sparando! Un buon colpo! Quello è già morto! Sono abituati ad affrontare i mali! Ci sparano addosso! No! Sono dei buoni bersagli, lo trovi? Non è il momento più grandioso della tua vita? Sabine! Ci hai quasi ammazzato! Hai visto? Un glorioso raggio di libertà che brucia nella notte per... Cosa c'è, Volderf? Oh, maledizione! Forza! Forza! Ci vorrà più di una granata per far fuori quel vecchio pazzo! Nel frattempo facciamo come dice e muoviamo! La vittoria è vicina! La vittoria è vicina! La vittoria è vicina!